Noi andiamo in diretta a Firenze, lo vedete a Palazzo, buonasera Matteo Renzi, questa sera, buonasera, italioti, buonasera, vedo che siete già pronti per la mia manovrina, tutti dicono che sono una testa di cazzo ma non so perché, comunque ora che sto sulla poltrona dove ci scoreggiava, mio fratello Silvio, mi cala mollo, Bischeri. Presidente Schulz, l'Italia ha appena votato e ne è emerso un quadro di difficile governabilità, se non addirittura di ingovernabilità. È arrivato il mio amore, ora mi preparo per accoglierlo. Se Dei continua così fammi ilbida con la lingua, andai, levami i pazzanelli dai peli, andai, dei, dei, am. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.